Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, qui è GKVP, oggi siamo in un nuovo video di The Legend of Zelda Breath of the Wild, vi lascio subito al video. Ok, a sto punto, a sto punto, pensavo di, visto che avevo la spada quella bella, giusto? Sì, avevo la spada quella bella, pensavo di andare a sbattere in faccia la spada a quei brutti ceffi che c'erano di vicino. C'erano qua vicino, non so se li avete visti prima, c'erano dei brutti cosi enormi. Eccolo, quello là, quello là. Ah, no, no, mi sono preso un colpo. Perfetto. Sì, sì, gelatina a ciucciu, ok dai, dammene. Allora, c'è solo lui? No, ce ne sono due, che due palle. Vabbè, intanto prendiamo queste mele, che non guastano mai. Mi ha visto, rega, mi ha visto, bene. È arrivata l'ora, è arrivata l'ora di battagliare con costui. Uh, oddio, mi ha tolto mezzo cuore, dai dai, ce la possiamo fare. Ma dai, non sono così tanto forti. Guarda, li ho tolto praticamente la vita. Ma forte, posto. Dai, prendiamo... Uh, guarda. Zanna di grublin. Si chiamano grublin, sti cosi. Corno e... Un'altra zanna, sì. Questo lancia, la possiamo anche lasciare. Ne andiamo a battere l'altro. Cioè, guarda, sono facili da battere. Ho visto anche già qua del pollame che prenderò. Prendo, 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 prendo roba. Beh, non mi ha dato nulla? No, è impossibile. Rega, ah, no, è qua. Non pensavo fosse così lontano. Guarda quanto pollame mi ha dato. Perfetto. Mi sono anche per ripresa la freccia. Bene, andiamo a battere a quest'altro grublin. Che tanto sono easy da combattere, dai, pensavo peggio. Ma rega, ma dai, sono easy. Sono easyissimi da combattere. Questo cos'è? Clave a bobblin, ma chi se ne frega delle clave. C'è qualcos'altro magari qua che, visto che c'erano questi due a difendere, vuol dire che magari c'è qualcos'altro. Tipo qua dentro c'è qualche... qualche cosa da prendere, no? Niente. Oh, ma ce n'è un altro là. Ma rega, ma spawnano così di continuo. Vabbè, niente, andiamo a prendere anche l'altro. Posto. Ripa, mi si è rotta, però almeno adesso l'ho ucciso. Ok, allora, là c'è l'altro pollame che fessimo fuori subito. Rega, non prendo il volo. No, per nulla, però va bene. Uh, no, oh, cosa mi rubi la roba, beh? No, c'era l'imboscata, rega. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Rega, devo rimettermi la spada. Allora, mettiamo... ma sì, mazza bobblin puntuta, usa. E lo scudo mi si è rotto? No, però mi si sta per rompere, ok. Che lag m'ha tirato, madonna. Uh, non ho più lo scudo. Non ho più lo scudo. Non ho più lo scudo. Ok, adesso posso mettermelo. Perfetto. Uh, ma sei vivo? Marga, non pensavo fosse ancora vivo. Allora, prendi, prendi, prendi. Non pensavo mi facessero un'imboscata a sti stronzi. Pensa, ma te. Scopettone, ma serio. Un attreso per pulire è di solito usato per spazzare i pavimenti. No, lo voglio, lo scopettone. Lo scopettone sarà... Sarà il mio nuovo... No, 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 aspetta, cosa? Questo cos'è invece? La zappa. No, vabbè, rega, lo scopettone... Io voglio lo scopettone con me. Allora, butto una arma, chi se ne frega, ma lo scopettone lo voglio. Allora, vediamo, cosa butto? Butto, ma sì, dai, spada arrugginita, scarta. Voglio lo scopettone, vieni. Quanto danno fai scopettone? 5, fai schifo, madonna santa. Però, aspetta, no, mettiamo la mazza puntuta, ok. Lo scopettone, ragazzi. È la nuova arma della vita. Qua sopra c'è qualcosa. No, niente, perfetto. Beh, allora a questo punto possiamo attraversare finalmente il ponte. Io però vorrei un cavallo. Quello? È la persona? Ponte presso, sì, ok, siamo già... L'avevo capito che era un ponte questo. Sì, è una persona, rega. Prima persona che incontriamo dopo il vecchio. Parliamo con costui, cosa vuoi? Dimmi. Alla fine la mondo è fincina, ma no. Sono abituta a vedere presaggi nefasti, ma questo è il più nefasto di tutti. E tu dove spunti fuori, non ti ho mai visto da queste parti. Ma non importa, capiti a momento giusto, sono stufo di parlare da solo. Ma no, poverino. Hai visto quelle cose che sono spuntate dal terreno? Sì. Ma no, non dico i funghi, le torri. E pensa un po', mica solo qui è successo in tutto il mondo. E le cose strane non finiscono qui. Quei sacri ari abbandonati dal lungo tempo hanno cominciato a brillare. Capisci cosa significa? Saper arrivare alla fine del mondo, madonna, certo, sicuramente. Quindi, insomma, considerando tutto questo, sono venuta a tenere d'occhio quell'affare. Non si sa mai che si metta in moto all'improvviso. Quale affare? Ah, sì, quell'affare. No, quale? Quale? Ma veramente non sai cos'è un guardiano? Non conosci le leggende di Hyrule? Sì, sì. Ah, lui, pensavo. Sì, questo si muove, questo si sveglia. Meno male che non ci sono andata prima. Quindi quello a fare laggiù, quello a forma di urna rovesciata? Ah, ma lo sai che una volta uno di quei cosi mi ha visto e ha iniziato a seguirmi? Proprio quello lì? No, no, un altro. È successo davanti al bosco che bisognava attraversare per arrivare al castello. Quando uno di quei cosi ti vede, parte una lucina rossa. Appena l'ho vista, credevo che per me fosse giunta la fine. Invece, in qualche modo, sono riuscita a mettermi in salvo del bosco. Eh, dici che ho buoni risflessi? No. Ma no, è stata solo fortuna. Comunque intorno al castello di Eirul è pieno di quei guardiani. Sta' attento. Oh, grazie. È stato un piacere parlare con te. Tanto sapevo già quello che stavi dicendo. Uh. Uh. Ma dai, sono tre, ma sì. Ma sì, sono tre persone e riesco ad ucciderle molto tranquillamente. Vabbè, voglio provare una cosa. Attaccami. È morto? Non ci credo. Volevo schivarle, ma ha colpito lo stesso. No. Ma dov'è che mi fa riprendere? No, no, no. Non dirmi che mi... No, no. Devo rifare tutto da capo. Per un bobling di merda blu. Scherziamo? No, no, no. Non mi direi che mi fai riprendere tutto troppo indietro. Ti prego. Oh, grazie a Dio. Io con te non ci riparlo perché mi hai fatto una... Una chioda prima. Non smettevi più di parlare. Vabbè. Sì, sì. La fine del mondo è vicina. È stato un piacere. Però quello lì, secondo me, non si attiva. Ho questa impressione. Boh, dopo andiamo comunque a vedere perché tanto dobbiamo andare da quella parte. Dai, io questi qua adesso ho la cosa. Devo riuscire ad ucciderli. Assolutamente. Andiamo. Dai, Link. Dai, dai. Prendiamo questo. Apriamo. Vediamo cosa c'è. Uh, c'è un aspio di là. Ci sono i pesciolini. I pesci. Vediamo. Oh, pale. Uh, perfetto. Allora, sì. T'avevo visto qua che c'erano i pesci. Eccolo là. Eh, però non ce la faccio ad arrivare fin lì. Rip. Fa niente. Vabbè, niente. A sto punto andiamo al vero obiettivo. Ma sta ritornando veramente seriamente notte di nuovo? Ah no, sono le dodici. Beh, come è sto cielo? Bruttissimo. Non mi dire che inizia a piovere. Se inizia a piovere è brutto. Uh, è qua? Secondo me quel fiore ci può servire. Si è messo... Oh, guarda quanta roba. Vediamo se questo fiore cosa ci dà. Ce lo fa prendere? No! Oddio, cos'è, regà? No, sarà sicuramente... Oddio, come si chiamano quei cosini bellini. Beh? Ma qualcuno non... Nessuno mi dice niente? Sì, 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 ok. Va bene, prendi, prendi. Va bene, madonna, mi sto spaventando per nulla. Ci sono gli massi che cadono così a caso. Dov'è andato qua? Vai, vai, vai. Segui, segui il fiorellino, segui. Qua sopra sicuro. Eh beh, ovvio. Eccolo. Com'è che si chiamano questi? I corogwe, vero? Mi hai trovato. Seme di corogwe, a posto. Ciao, ciao. Allora, vediamo se qua sopra c'è qualcosa. Che bello sto posto. A posto. Ok, regà, abbiamo fatto la spesa. Adesso direi che possiamo ritornare a valle. Madonna, questi uccelli qua ci danno 3000 pezzi di pollame. Direi che possiamo andare a valle e andare nel punto di prima prefissato. Qua? Ti prego, voglio... Voglio assolutamente... Uh, 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 uddio, uddio, un cinghiale. Uddio, un cinghiale, regà, un cinghiale, regà, un cinghiale. Dai, regà, che lo prendo, dai, che lo prendo. I cinghiali, regà, sono la vita, i cinghiali. Vai, vai, vai. Ma... Ma questo posto? Riesco a... Oddio. Riesco a spostarlo, sto mass? Sì che riesco a spostarlo. Vai, Link. Beh, un altro korogu? Eh, vedi, vedi, oggi è la giornata dei korogu. Oh, mi hai trovato. Perfetto. Poi tutti vicini, eh, sono tutti vicini sti korogu. Allora, qua ci sono degli altri goblin. Ok. Dimmi che devo... Prima... Allora, aspetta. Facciamo una cosa molto, molto, molto... Molto, molto. Prima andiamo qua e ci segniamo che questo è posto. Ecco qua, è posto. E a sto punto bivacchiamo fino a mattina. Facciamo così, dai. Anzi, sai cosa vorrei fare? Aspetta, adesso ribivacco di nuovo fino a sera. Così loro intanto dormono. Sì, 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 faccio così. Vuoi vedere che adesso mi sveglio e me li trovo attorno. Ho due scommetti. Beh, sti funghi non li avevo mai visti. Furti volo. Uno fungo di notte, ma no. Oddio. Cos'è, cos'è? Ah, vabbè, si schifini qua. Sì, dai, vieni. Tanto. Tanto non fai niente. Non me ne ha neanche droppato niente. Vabbè. Non facciamoci domande. Prendiamo lì sti funghi. Questa, lo sapeva. Beh. Oddio, ci sono delle... Sono pietre? Aspetta, qua però mi sa che ci vuole questo, tipo. No. Allora, cosa che ci vuole? Questo? Perfetto. Uh. Oddio, quanta roba. Rega, ho fatto jackpot. Guarda quanta roba. Allora, il topazio. Poi dell'ambra. Lassa il gemma. Dello zaffiro il topazio. Ma rega, ho fatto jackpot. Ma guarda qua, c'è altra roba. Magari la prendo volentieri, guarda. Non è un problema. Un korogu. A caso proprio. Va bene. Ah, mi hai trovato, grazie. Adesso te lo risbatto ad osso, sto sasso. Ecco. No, vabbè, poveino. Andai, usciamo da qua. Rega, non mi aspettavo per nulla una cosa così. Ma proprio zero. Vabbè. Allora, vediamo se... Oh, se ne sono andati a letto. Se ne sono andati a letto. Aspetta un attimo. E io però devo andare dal tipo blu. No, rega. La mia cosa non ha avuto effetto, però rip. Io però voglio andare da lui. Vieni, vieni. Non ho più l'arma, non ho più l'arma. Porca vacca. Allora, arma, arma, arma. Mi serve un'arma. Porca vacca. Ho solo quello da 20? Va bene. Ed è quello enorme? Oh mio Dio. Aspetta, aspetta. Madonna, però fa malissimo. Fa malissimo. Ho visto lo spedito. Ma rega, cioè, è andato benissimo sto giro. Sì, sì, sì. Adesso lo vado a prendere lo scrigno. Dai, tranquillo. Prendi. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato dentro. Scudo. Uh, bellino. Sì, sì. Lo scambiamo tranquillo. Lo scambiamo subito con questo. Vai. Prendi, prendi. Uh, un'altra pecora. Rega, c'è una pecora. Ok. No, no. Beh, niente. Che palle. Pensavo di ucciderla. Vabbè, rip. Prendiamo questa. Sì, sì, sì. Beh, beh, beh. Vai tranquilla. Continua a fare beh. Tanto prima o poi ti becco. È inutile che scappi. Ok, bella pecorella. Vieni qua. Che ti cucino. No, non l'ho beccata. Ale. Posto. Dammi, dammi il mio cibo. Che è il mio cibo che mi spetta. Ok. Poi questa che avevo lasciato qua. Perfetto. È notte. È notte ufficialmente. Sono le tre. Madonna. Allora qua. Beh. Non c'è. Sai che pensavo ci fosse della gente. Non c'è nessuno? Scherziamo? Non è impossibile. Stanno tutti a dormire. Non c'è nessuno qui? Qui ci sono un sacco di screen. Vai, vai. Apri, apri. Vediamo cosa c'è. Pietra focaglia. Addirittura. Ok. Qui? Questi qui? Ops, scusate. Beh? E te? Così. Appaiono ciuccio a caso. Cos'è sta roba? Oddio, rega. Ma sono mostri. Oddio. No, no, no. Uuuuh. No, no, no. Una cosa così veloce non me l'aspettavo. Aspetta, perdiamo. Questa. Oh, oh, oh. Vieni qua. Vieni, vieni. Artilio di Lizzalfos. No, Lizzalfos. Lizzalfos si chiamano sti cosi. A posto. Rega, sto rimparando a giocare, avete visto? Ok, quelli sono morti. Là c'è il pollame. Vabbè, le rega non si vanno ad andare tanto in là. Uh, una persona. No, t'ho salvato la vita. Si parla di manza. Chi? Ho bisogno di riposare in mie stanche membra. Sì, ok, va bene. Io vendo carne. Ok, vediamo. Vediamo cosa c'è. XL? Addirittura? No, no, no. Non ci serve niente. Vai tranquillo. Sì, sì, sì. Arrivederci. Bene, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un bel like se vi è piaciuto. Lasciate i commenti qui sotto. Mettete mi piace la pagina di Facebook che troverete nella descrizione. Iscrivetevi, sono DeciFatto. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!